Ciao ragazzi sono Ceno Kakuna e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft Pocket Edition per mostrarvi un addons che aggiunge vari soprammobili in gioco quali sedie, poltrone e per giunta anche una postazione da gaming ma prima di vedere tutto ciò come sempre vi consiglio di lasciare un bel like al video iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche per non perdere nessun nuovissimo video detto questo beh iniziamo partiamo dalle decorazioni di quelle basilari tipo sedie o tavoli molti di questi presi dalle teste di mob inoltre notiamo che c'è anche una statuetta raffigurante il creatore molto carina e ora una a una andrò a vedere questi fantastici soprammobili iniziando dal tavolo questo è un modello preso dalla caccia la particolarità sta nel fatto che mostra una sorta di contrasto fra legno intagliato che si nota nei piedini e sopra di tipo naturale come altra cosa un televisore a schermo piatto che quando la mia mano è gigantesco ma è anche molto bello perché alla sua sinistra troviamo una Wii poi un cubo di rubik e in più una piccola libreria andando avanti c'è anche una postazione da gaming con tavolino e monitor incorporati in più uno di questi è la schermata di GeoVedition, quello centrale e oltre la tastiera sotto possiamo vedere il case del computer tutto sommato per il resto abbiamo un tavolino di abete fra quello normale e intagliato e come altra cosa un mobiletto di quercia che starebbe bene secondo me per un salottino oppure per una stanza da letto ma passando alle sedie potranno essere esponate tramite un uovo di zombie villager modificata apposta quindi questo cosa significa che tutti i tipi di sedie o poltrone potranno uscire casualmente quando li esponerete in questo caso mi è uscita una sedia in ufficio con una texture molto simile alla nera ora vediamo cosa c'è d'altro ah una sedia di legno ci potrebbe stare perfettamente col tavolo che abbiamo visto in precedenza ma comunque non so se ve l'ho detto prima in molte di queste le potremo anche sederci prendiamo in esempio la sediera gaming ci basterà solamente avvicinarci e cliccare il tasto cavalcatura questo è quello che otterremo e inoltre se andremo in terza persona l'effetto sarà più figo da vedere no raga veramente dovrei solamente aggiungere la posizione della gaming che abbiamo visto prima e ci starebbe a pennello e finalmente passiamo all'ultimo oggetto che è la poltrona di due colori un azzurro come questo eh no ho sbagliato non volevo spawnare la sediera gaming ma insomma potremmo anche sederci nella poltrona solo che però c'è una piccola un piccolo problema ovvero ci si potrà sedere solamente per un posto non per due e personalmente come cosa non mi piace molto poi c'è il limano rosso che è sempre il suo modello però cambia la texture per fortuna che me lo sono ricordato mi ho dimenticato la statuetta del creatore che è presa dalla testa di Steve beh all'apparenza è una skin carina però ad essere sinceri ne ho viste tantissime simili a queste quindi ma dopo aver fatto una breve review andrò a vedere come installare l'addons innanzitutto dovrete avere bisogno di un register file che sarà sfilexplore e ve lo lascerò in descrizione e dopo aver scaricato il file zip che sarà sempre in descrizione in un link mediafire dovrete cliccare su altro nei tre pallini e starai in lasciare la spuntina quella azzurra e vi creerà una cartella con dentro quella della resource backs e della behavior e a questo punto dovrete spostare la cartella e la resource su resource backs di minecraft quindi andremo su sposta cercheremo la cartella games con punto mojang resource backs ho sbagliato dovrebbe essere giù si qua premete ok e ora faremo ora sposteremo anche quelle delle behavior sempre su games con punto mojang questa volta behavior backs e quindi credo che il video può finire qui e ciò è la prossima gente e ciò è la prossima gente